Ciao a tutti ragazzi Benvenuti nel nostro video Anche Calimero Voleva Fare il bagno nella lavatrice Giocattolo magica Mettiamolo dentro Per tutti i baffi felini È diventato un gatto Calimero Miau 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 Se il nostro video vi è piaciuto Mettete un bel like Iscrivetevi al canale Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti